La fatturazione massiva dei documenti di trasporto avviene attraverso la voce Fattura differita presente nel menu Documenti. Se nel menu Documenti la voce di menu Fattura differita non è presente, occorre procedere con l'abilitazione dell'opzione nelle impostazioni Archidio. Per effettuare la dimostrazione della fatturazione massiva, inserisco velocemente alcuni documenti di trasporto di esempio. Apriamo la voce di menu Fattura differita e si potranno vedere i documenti di trasporti di esempio inseriti. Da notare che è presente un filtro in alto per poter filtrare in base a vari criteri i documenti di trasporto da fatturare. Per procedere con la fatturazione differita, premere il pulsante Genera fatture. Al termine della generazione, è possibile visionare tutte le fatture generate aprendo la voce Fatture presente nel menu Documenti. A questo punto sarà possibile modificarle, stamparle, inviarle al cliente.